Coach Vitucci alla fine di una gara fortemente evoluta, portata a casa dalla tua brindisi, davvero un gran svolvero. Sì, è una grande prova perché venire a vincere a Sassari, vuol dire dimostrare veramente di essere in squadra, di essere in un ottimo momento, di aver supportato bene l'assenza di un giocatore importante come Wings, senza partire troppo, anche se chiaramente Sassari ha fatto la partita molto su gioco di post basso, su gioco di Bila, che ha fatto una grande prestazione, però noi abbiamo soprattutto, quello che mi è piaciuto, reagito bene ancora una volta nel momento in cui l'inerzia della partita era andata un po' nelle mani dei nostri avversari e con 2-3 punti di vantaggio invece siamo usciti da il time out e da altre situazioni in maniera molto efficace e poi il contributo di tutta la panchina che è una nota per noi estremamente importante e questa è la migliore dell'anno. È anticipato la mia domanda, rotazioni che hanno risposto davvero presente sul campo? Sì, perché loro sanno che devono, come stanno facendo, impegnarsi giornalmente in maniera passiva, dura, coinvolta, partecipe profonda e farsi provare pronti quando ne hanno l'opportunità, che può capitare in momenti di realizzare la partita, in situazioni completamente differenti, l'hanno fatto e quindi sono molto contento che, insomma, chi magari avrà giocato poco fino adesso, che però venendo anche dalla Lega 2 necessitava, e necessita ancora di un aggiustamento rispetto a questo livello qui, perché, insomma, giocare con Sassi da Virtus Bologna o i punti della Rossa Fakà, insomma, con molto rispetto, è uno step molto più importante e molto più complicato e quindi sono contento per loro perché se lo meritano, ma ci abbiamo puntato e sono sicuro che non abbiamo sbagliato assolutamente i cavalli. Grazie.